Se togli il reddito di cittadinanza, ammazzo te e tua figlia. Veramente attenta? Finisce la costa cosa di togliere il reddito di cittadinanza? Se no, ti ammazzo, lo capisci? Sono solo alcune delle frasi pubblicate su Twitter, minacce a Meloni e alla Fia di 6 anni. L'autore delle minacce di morte, indirizzata alla Presidente del Consiglio e sua figlia, pubblicate dall'account di Fratelli d'Italia su Twitter, è stato identificato e denunciato. Il caso è esploso questa mattina dopo che ieri sera il profilo ufficiale del partito ha condiviso una serie di screen che riportavano minacce terribili rivolte a Meloni e anche alla figlia. In poche ore, un'ondata di solidarietà bipartisan è arrivata alla Presidente del Consiglio, mentre la Procura della Repubblica di Siracusa ordinava alla Polizia di Stato di eseguire una perquisizione. Nei confronti di un uomo di 27 anni, disoccupato, che ora risulta indagato per violenza privata aggravata nei confronti di Meloni. Gli agenti della Polizia Postale di Roma avevano rilevato sull'account ufficiale Twitter della Presidente del Consiglio la pubblicazione di messaggi di minacce di morte finalizzati ad evitare l'eliminazione del reddito di cittadinanza. Nonostante l'utente utilizzasse uno pseudonimo, le attività tecnico-investigative hanno permesso l'identificazione dell'odierno indagato. Sulla base delle evidenze investigative, l'autorità giudiziaria ha disposto la perquisizione domiciliare ed informatica nei confronti dell'uomo. Ora le indagini andranno avanti e l'uomo rischia fino a 4 anni di carcere. Grazie a tutti.